Stiamo seguendo le attività circa il nuovo vecchio piano di sviluppo rurale 2007-2013, siamo a un avanzamento di spesa abbastanza soddisfacente, l'82% dei fondi messi a disposizione per la vecchia programmazione, 426 milioni di euro, sono stati spesi. Mancano ancora tre mesi per giungere a termine e quindi al fatidico disimpegno, anche se sostanzialmente qualcosa sarà restituito a Bruxelles considerate le condizioni particolari dei Galli, dei Comuni e soprattutto per la crisi del credito nella nostra regione. Sappiamo tutti che i nostri imprenditori hanno bisogno di credito e molte volte fanno fatica ad avere credito a disposizione soprattutto considerate le condizioni delle nostre banche regionali. Ci sarà una svolta su questo? Sicuramente sì, con il nuovo piano di sviluppo rurale che stiamo definendo con Bruxelles, siamo alle battute finali, stiamo anche costituendo una serie di rapporti con l'ABI regionale e con le banche regionali affinché possiamo costruire una serie di rapporti e di pacchetti creditici da mettere a disposizione degli imprenditori agricoli regionali. Avremo a disposizione 432 milioni di euro per i prossimi sei anni e avrà un obiettivo fondamentale che è quello di portare i giovani in agricoltura. Noi dobbiamo costituire una nuova classe di dirigenti imprenditoriali nella nostra regione e i fondi del PSR, oltre ad aumentare la competitività, le filiere, la gestione dell'acqua, l'agricoltura sociale porterà tanti giovani verso il primo settore.